e non ricordo dolcissimo della partita di ieri a virtus francavilla che era contro vizius monterosus tushos c'erano questi stormi di uccellini che passavano sul campo disturbando i giocatori si infilavano fra le gambe non era una cosa carina ma proprio dispettosi dispettosi che hanno creato un po di confusione e devo dire anche la direzione della partita è stata disturbata da questi che poi non si capiva che tipo di uccellini fossero dalla dimensione potevano essere passeri ma stando nel profondo sud probabilmente era una mutazione passerà e quindi era una razza molto nuova e difficile da identificare insomma quello che posso dire della partita pareggiata il pareggio è certamente una grande responsabilità di questi stormi di uccellini è un grande saluto eccoci qua tutto tutto finito finito il campionato finito subito il play off cosa resta cosa resterà del monterosi tusha beh quello che resta quest'anno è un'impresa carina non siamo retrocessi siamo arrivati ai play off ed è certamente merito della società dello staff tecnico infermieristico insomma da tutti quella quella massa enorme di collaboratori che caratterizzano una realtà cosiddetta professionale approfitto per dire che la professionalità dovrebbe prevedere un pochino più di spazio al dilettantismo non so che sembra una cosa controversa che significa tradotto che calcio sopra a tutto nel professionismo mi rendo conto chino la testa e minchino le regole è difficile ottemperare a tutti gli impegni codicigli protocolli è una vera holding di difficoltà burocratiche perché non cerchiamo di semplificare specialmente perché non mettiamo le persone in condizioni di accettare di essere innocenti di di non essere invece continuamente martirizzati sotto il peso di una colpevolezza che a questo punto viene ritenuto la realtà improrogabile di questa epoca il calcio è un gioco non è una guerra non sono l'empa slims la covi socks le società di rating che decidono se tu hai diritto di lavorare la procura federale che c'è una cosa molto semplice il sorriso dov'è il sorriso in questa realtà a calcistica è difficile trovarlo e questo per me è stata una grande sofferenza lo è tuttora e mi auguro nel futuro che qualcosa qualcosina qualcosina che lentamente piano piano possa diventare più umana il concetto di umanità in quest'epoca sia un pochino polverizzato che cos'è l'uomo che cos'è l'umanità in un contesto in cui solo le regole hanno motivo di esistere che cos'è l'uomo in una dimensione di colpevolezza continuativa lo so sembrano discorsi esagerati ma riferendomi a uno degli articoli della costituzione che dichiara che si possono esprimere le proprie idee fino a prova contraria usufruendo di questa possibilità mi esprimo io voglio raccontarvi così per farmi comprendere che in quarto a ginnasio sono stato l'unico bocciato della scuola perché il mio cinque e mezzo diventava quattro e invece i figli della borghesia se avevano quattro e mezzo diventava sei perché io andavo a scuola senza padre e senza madre senza nessuno che mi seguisse perché questa è una realtà inconfruttabile della mia esistenza ma devo dire che quel giorno mi misi a cantare tutti i promossi io bocciato cantavo e ballavo e tutti pensavano considerando che già lo pensavano prima che io fossi pazzo no quello che mi fortificava in quel momento è la certezza di essere fuori dal greggio di essere diverso che poi tra l'altro tutti gli uomini sono diversi dal momento della nascita ma evidentemente io facevo parte di una diversità veramente diversa era un diversifico diceva sei pazzo ridevi si ridevo proprio perché mi senti profondamente libero ed è in virtù di questo meccanismo che con cui sono nato e con cui ho vissuto che mi permetto a volte di fare delle affermazioni con molto garbo perché è necessario ma che secondo me hanno un fondamento profondo in una realtà morale etica e umana perché io credo di essere un essere umano e quindi come essere umano ho pieno diritto credo ad affermare i convincimenti che sono radicati profondamente dentro di me che poi sono piccole cose si chiama onestà si chiama buon senso e si chiama esempio questo forse oggi non ha molta rappresentanza nella realtà cosiddetta umana e adesso io faccio un appello agli sponsor perché avete visto cari sponsor che non siamo una chimera che passa così e che già è stata retrocessa no noi abbiamo conquistato con pieno diritto la permanenza in serie c e vorremmo migliorare perché chi mi conosce sa benissimo che il press questo qui tutti dicono è ambizioso no non si tratta di ambizione si tratta di discernimento e di determinazione nel raggiungere gli obiettivi il bari almeno nelle dichiarazioni ha speso più di 10 milioni per arrivare primo noi abbiamo speso appena un milione 6 perché l'abbiamo dichiarato poi no molti hanno speso tanto tanto di meno siamo arrivati noni nei playoff quindi caro sponsor io in questo momento ti magnetizzo con una sorta di amore possibile nostri confronti ma anche di un interesse perché noi rappresentiamo un interesse del territorio è un interesse mediatico è un interesse anche culturale nel calcio dici culturasi culturale perché la mia realtà la nostra realtà e la nostra società ha un protocollo si chiama sport e cultura che è uno strano abbigamento questo ovviamente è possibile perché io sono fatto così diceva beh ma tu che centri no centro e quindi succede che per me o di questo concetto tutti i miei collaboratori tutti dal primo all'ultimo e quindi caro sponsor forse oggi puoi avere un interesse reale nel regalare a monterosi e monterosi tuscia una promozione b e voglio dire noi siamo partiti dalla dalla seconda terza categoria e siamo in ci quindi evidentemente non è un utopia è una cosa che può essere realizzata specialmente se riusciamo a costruire questo centro sportivo di cui abbiamo da tre anni già i fondi per realizzarlo ma sembra che sia una cosa difficilissima che passa attraverso appunto quella burocrazia un pochino esorbitante che esiste oggi nel mondo ma in italia in maniera particolare quindi caro sponsor io approfitto anche delle mie labbra per baciarti selvaggiamente e farti comprendere che può essere un interesse economico aiutare il monterosi non solo a restare in cibi ma a rappresentare una realtà un po' un po' da favola che poi è quello che io faccio scrivo favole e ho scritto anche una fa sto scrivendo una favola nel calcio e quindi caro sponsor vorrei dire mettiti una mano sul cuore che sta dalla parte dove a volte in un taschino c'è anche il portafoglio voglio dire ricordo appunto andate a vedere le spese delle squadre che vincono sono quelle che hanno più soldi evidentemente ci vogliono i soldini per vincere e qui a monterosi non ne abbiamo non ne abbiamo mai avuto e vi attendiamo cari sponsor con grande trepidazione ma anche con qualche certezza che ciò finalmente stia per accadere quindi monterosi tuscia è rimasta in ci io ringrazio e non è una formalità è qualcosa che mi viene dal profondo la squadra non è che posso citarli i nomi sono troppi lo staff tecnico ringrazio menichini per l'opera che ha svolto in maniera straordinaria ringrazio fabrizio lucchesi che è un po la storia del calcio con una professionalità certa e profonda e anche con una grande umanità per chi non lo conosce spesso si dicono cose di persone senza conoscerle io l'ho conosciuto è veramente un grande personaggio una grande personaggio con tante straordinarie qualità professionali e mi auguro di poter conservare ciò che di positivo c'è stato quest'anno qui i giocatori mi vanno in vacanza beati loro riescono a recepire stipendi anche senza fare più niente almeno non è mai successo la vita e pensate sono un presidente che non guadagna niente capite molti guadagnano io no non guadagno e probabilmente deve essere una falla nella mia realtà razionale sono proprio isente da questa razionalità ma ciò è troppo personale per cui stendiamo un velo anche pietoso su questa realtà presidenziale e cominciamo a rimboccarci le maniche per riuscire a realizzare un anno che nei miei sogni significa b e nella realtà potrebbe essere b ve lo garantisco se questi fatidici sponsor ci danno fiducia a presto